Sul Gran Sasso qualcosa si muove. Dopo un'ottima stagione scistica nella stazione invernale, si sblocca pure la ricostruzione dello storico albergo di Campo Imperatore, che ospitò la prigionia di Mussolini. Il Comune ha approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione e ha scelto anche la modalità di gara per affidare lavori. Sarà una procedura aperta, un intervento che arriva dopo i ritardi e dopo che il Comune nel 2020 aveva ripreso in capo l'intervento, che prima vedeva come stazione appaltante il probbeditorato alle opere pubbliche. Lavori da quasi 4 milioni di euro e sarebbero dovuti partire in primavera. L'opera è una volta fatta la gara d'appalto, dovrebbe vedere la conclusione in 540 giorni. Nel corso del tempo si sono avvicendate anche varie figure tecniche. Il Ruppa è il dirigente comunale Roberto Evangelisti. Sono 13 anni di ritardi, quindi finalmente siamo riusciti a risolverlo. Il Comune è riuscito a risolverlo, ha fatto una commissione, è pronto il bando. Entro metà giugno si presume che si possa appaltare l'opera. Ne verrà fuori un resort invernale con 80 posti letto, spa, piscina interna, sala lettura, barra aperto anche all'utenza esterna, spazi per nollo sci e scuole sci, ambulatorio. Il progetto è stato presentato ad ottobre del 2021. L'obiettivo è modernizzare, ma rispettando la natura storica dell'edificio. L'albergo spesso è stato al centro di polemiche, oggi è fatiscente in stato di abbandono. Inutile ribadire che avere una struttura in quota così è essenziale, ma c'è il nodo dei sottoservizi, ai quali si spera si metta mano a breve, altrimenti ci saranno sempre i soliti problemi che spesso investono anche la stazione sciistica. Stiamo studiando una soluzione, è difficile, ma la stiamo studiando. Chiaramente prima che finisca l'albergo devono essere anche sottoservizi, innanzitutto per l'acqua. La stagione è andata benissimo, si è sciato fino all'ultimo, è una stagione che vi ha fatto in parte recuperare i problemi causati dalla pandemia? Sì, è stata una buonissima stagione, è partita l'8 dicembre, finita il primo maggio, con dei bei weekend tempo buono, quindi ci è venuto incontro anche il tempo. Sì, quest'anno siamo contenti. Speriamo che vada bene anche l'estate.